Il premio Pieve e l'archivio diaristico nazionale negli ultimi anni hanno creato un legame con la città di Arezzo che si rinsalda con questi due eventi in programma. Di che cosa si tratta? È il secondo anno che facciamo una specie di antreprima del premio. Il premio si svolgerà dal 16 al 18 di settembre a Pieve Santo Stefano, sarà la 32esima edizione e invece il 9 di settembre, nel pomeriggio e nella sera, ci sono due incontri. Uno, quello del pomeriggio nel cortile del Palazzo del Comune, in cui verranno presentati gli otto diari finalisti. Si parlerà e si discuterà anche con Tiziano Bonini e Matteo Caccia, che sono due storyteller della radio molto conosciuti. E poi la sera al Teatro Petrarca, con ingresso gratuito, quindi tutta la cittadinanza è invitata, uno spettacolo di Mario Perrotta, italiani cincali, che è un modo per ricordare la storia dei nostri emigranti e la pagina dolorosa e drammatica di Marsinelle. L'evento pensato dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano ad Arezzo sarà l'ennesima occasione per gli aretini per riscoprire il Teatro Petrarca. Sì, sarà anche questa occasione, ma soprattutto sarà l'occasione per scoprire, per chi non lo conosce di già, un'iniziativa che è ormai alla 32esima edizione, la seconda volta che collabora con il Comune di Arezzo. Già nel 2015 abbiamo dato una nostra collaborazione, questo perché è opportuno che si diffondano sempre di più le iniziative lodevoli come questa qui all'interno del territorio provinciale, non solo.